Ciao a tutti ragazzi, sono Alessia e siete su Book Lovers Army. Sì, io non so perché continuo a fare questa introduzione a ogni video, visto che ormai saprete su che canale siete se state guardando un mio video, ma ormai dico questa cosa come introduzione a un mio video, quindi vabbè. Come potete vedere dal video, oggi ho per voi la recensione di Magnus Chase e gli Dai di Asgard. Questo è il primo libro della nuova serie di Rick Riordan sugli Dai Nordici. Il libro parla di Magnus Chase, un ragazzino di 16 anni senza tetto di Boston che vive alla giornata cercando di non farsi beccare dalla polizia con i suoi amici Blitz e Earthstone. Magnus è orfano di entrambi i genitori, infatti è cresciuto con la madre che però lo portava sempre in campeggio o comunque in lunghe camminate nella natura e gli diceva che suo padre era tutto intorno a loro come la Vodafone. E siccome è un libro di Rick Riordan e abbiamo visto questa cosa succedere prima nelle altre serie di Rick Riordan, sappiamo che quindi il padre di Magnus è un dio, anche se non sappiamo ancora chi. La storia comincia un giorno quando Magnus scopre che entrambi i suoi zii lo stanno cercando. Infatti la madre, che è morta due anni prima, uccisa da queste bestie infernali strane a forma di lupo che solo Magnus ha visto, aveva due fratelli. Uno degli zii è zio Randolph, che è un po' lo zio strano della famiglia che non si è mai curato né della sorella, ovvero la madre di Magnus, né di Magnus stesso. E l'altro zio è invece... Frederick mi pare si chiami? Insomma, come potete aver immaginato, dato il cognome di Magnus, Frederick è il padre di Annabeth. Sì, Magnus Chase e Annabeth Chase delle due serie di Percy Jackson sono infatti qui. In ogni caso, Magnus viene intercettato dallo zio Randolph, lo zio strano, che lo porta vicino a un ponte e gli dice di prendere la spada dell'estate. Magnus ovviamente non ha idea di quello che stia succedendo, finché in un modo o nell'altro questa spada riesce a recuperarla. Appena Magnus ottiene la spada, viene attaccato da questo gigante di fuoco di nome Surt. Il gigante di fuoco Surt vuole la spada, Magnus ovviamente si oppone e quindi i due cominciano a combattere. Ma questa battaglia, nonostante Magnus riesca a fare dei danni molto severi a Surt, che quindi viene molto indebolito, Magnus appunto muore. E prima di saltarmi addosso pensando che vi abbia fatto uno spoiler enorme, non preoccupatevi perché questo non è uno spoiler, nel senso che questa è una cosa che succede praticamente subito all'inizio del romanzo. Magnus si risveglia in un hotel che è molto originalmente chiamato Hotel Valhalla. Per chi non lo sapesse, il Valhalla è il paradiso, non so come chiamarlo, però insomma il paradiso in cui vanno coloro che sono morti in battaglia con un'arma in mano e che sono morti appunto combattendo onorabilmente. Dopo aver superato lo shock della propria morte e lo shock di trovarsi in un posto dove la maggior parte della gente pensa solo a sgozzarsi, mangiare, tagliarsi le teste a vicenda e altre cose belle come queste, Magnus scopre dell'esistenza di una profezia che parla della fine del mondo, ovvero il Ragnarok o Ragnarok come si pronunci, nel quale la spada dell'estate giocherà un ruolo fondamentale. Magnus purtroppo non è più in possesso della spada dell'estate perché l'ha persa durante il combattimento e quindi scopre che è necessario che la recuperi al più presto per ritardare la venuta del Ragnarok. Quindi Magnus si imbarca in questa avventura barra ricerca della spada dell'estate insieme alla Valkyrie Stem al-Abbas e ai suoi vecchi amici Earthstone e Blitz che si scoprono essere rispettivamente un elfo e un nano. Questo è il classico libro di Rick Riordan pieno di avventure, un po' di misteri, ma soprattutto divertente perché come chi ha letto i libri di Rick Riordan sa, il suo stile di scrittura è molto semplice, molto chiaro, ma soprattutto molto sarcastico, ironico e questo è sicuramente uno degli aspetti che ho apprezzato di più di questo romanzo, nel senso che il libro è abbastanza lungo e quindi se non fosse stato scritto come è stato scritto con il tipico stile e marchio di Rick Riordan penso che ci avrei messo molto di più a finirlo. Per quanto riguarda l'aspetto della mitologia, sono un po' indecisa, nel senso che ho adorato come Rick Riordan ha costruito il mondo e ha spiegato l'esistenza degli dèi nordici e come la mitologia nordica è organizzata e strutturata, ho adorato la descrizione del Valhalla come un hotel, però gli dèi in questo romanzo sono un po' assenti e non so se questa è una caratteristica della mitologia nordica dove gli dèi sono appunto un po' non presenti come lo possono essere lì dai greci per esempio. Però appunto facendo il paragone con la prima serie di Percy Jackson dove i nostri protagonisti incontrano sia dei che mostri che altri eroi praticamente in ogni libro, in ogni capitolo, in questo libro invece questo aspetto mancava un po'. Per quanto riguarda i personaggi, anche qui sono un po' indecisa nel senso che ci sono aspetti che ho apprezzato e altri aspetti che invece non mi sono piaciuti molto. Una cosa che ho apprezzato molto è stata la diversità dei personaggi, però qui mi riferisco soprattutto ai personaggi secondari o personaggi minori questi personaggi non sono molto sviluppati. Un altro aspetto un po' meh di questo libro riguarda l'originalità. Ormai Rick Riordan ha scritto un sacco di serie su tre diverse mitologie quella greca, quella egizia e adesso quella nordica e creando un sacco di personaggi, un sacco di storie, un sacco di avventure è normale che ci siano certi ruoli e certi cliché che si ripetano però non fa comunque un bel effetto durante la lettura di questo libro continuare a paragonare alcuni dei personaggi di questo libro a personaggi di Percy Jackson per esempio Bonilla che è la ragazza a capo delle Valkyrie è praticamente la copia sputata di Clarice in Percy Jackson la figlia di Ares, molto combattiva, molto aggressiva però appunto nonostante questo aspetto che mi ha un po' deluso ho comunque adorato alla follia le avventure di Magnus ho adorato viaggiare con lui attraverso i nove mondi anche se non li ha visti tutti i nove ma vabbè vedere come funziona un po' la mitologia nordica quanto sia diversa rispetto alla mitologia greca o quella romana e soprattutto vedere l'umorismo di Rick Riordan spiegare la mitologia e dare quel tocco di modernità alla mitologia in ogni caso io non vedo l'ora di leggere gli altri libri della serie quando verranno scritti e pubblicati perché Rick Riordan, genio del male, ha concluso questo libro con degli indizi per la continuazione della serie e quindi sono molto curiosa bene ragazzi questa era la mia recensione di Magnus Chase e gli dei di Asgard, la spada del guerriero anche se piccola appunto la spada si chiama spada dell'estate quindi perché in italiano è stata tradotta la spada del guerriero se avete letto questo libro fatemi sapere che cosa ne pensate e se non l'avete letto fatemi sapere se siete curiosi di leggerlo io spero che questa recensione vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video ciao